Votate col cuore, votate col cuore vostro, votate per chi pensate che possa rimettere in piedi le cose, votate per la persona che vi piace guardare negli occhi e che vorreste accompagnare a fare il sindaco. E io vi prometto che non ve ne pentirete. Grazie per la parola. Grazie.